Allora, questa è la mia sezione del distanza online. Benissimo, vado, ancora non ho inserito la 041 per la prima fascia, quindi compaiono solo i dati vecchi. Io vado nella prima posizione, azioni disponibili, accedo nella scelta delle graduatorie. E qua mi compaiono tutte le mie classi di concorso, 040, 021, A041, che è quella di mio interesse e che dovrei inserire in prima fascia. E mi dice, impostata, sì, lingua graduatoria italiana, eccetera, eccetera. E qua va bene, dovrei aggiungere la graduatoria di A041, ma non la aggiungo al momento. Indietro, vado nelle sedi graduatorie di istituto, clicco e gli dico, modifico visualizzato, insomma, stessa cosa. E cosa succede qua? In ogni classe di concorso fisica mi compaiono le 20 sedi. Matematica mi compaiono le 20 sedi. Scienze e tecnologie elettroniche alle 17 sedi che avevo scelto. E così via. Mentre in A041 non mi compare nessuna sede. Infatti, cliccando sul pulsante accanto, scendo, non c'è nessuna sede. Il sistema ovviamente non mi permette di inserirle perché sono le sedi scelte un anno fa. Nell'inserimento in seconda fascia GPS. Indietro. Se invece vado su fisica, ad esempio, dove le 20 sedi ci sono, eccolo qua. Compaiono le sedi. Indietro. Quindi, non ci sono le sedi in relazione all'A041. Quindi, nel momento in cui io l'A041 la metto in prima fascia, perché è un citore di concorso straordinario, mi importa, sulla A041 in prima fascia, le sedi dell'A041 di seconda fascia GPS. E non ce ne sono. E quindi non me ne importa. Quindi, cosa potrei pensare? Perché ho sbagliato un anno fa quando dovevo inserire le sedi e non ho inserito le sedi su A041. Il che è impossibile perché ho lavorato su A041. Mi hanno chiamato da quelle sedi. Ma se questo magari non basta, io vado a prendermi il PDF dello scorso anno, che dovrebbe essere da qualche parte, non me lo fa vedere. Ecco, mi vado a riprendere la ricevuta dello scorso anno, chiamando per il sistema, e in corrispondenza a scienze e tecnologie informatiche, scendo e sono le sedi che io a suo tempo avevo scelte, cioè un anno fa. Perché adesso non mi compaiono più da nessuna parte?